EPC-1015PEM è una delle ultime proposte di ASOS in ambito netbook, è presente interessanti caratteristiche tra le componenti hardware, ma anche nella costruzione e nell'usabilità. Questo EPC è stato uno dei primi netbook a integrare una CPU Intel Atom N550, caratterizzata da un'architettura dual-core ed ha una frequenza di clock pari a 1,5 GHz. Il TDP di questo processore è pari a 8,5 Watt, superiore quindi di soli 3 Watt rispetto alle analoghe CPU single-core. EPC-1015PEM è basato su piattaforma Pine Trail di Intel, quindi il sottosistema video costituito dal noto Intel GMA3150. Per questo prodotto ASUS ha previsto 1 GB di memoria RAM DDR3 in abbinamento a un hard disk da 250 GB. Inoltre sono disponibili tre porte USB 2.0 e un modulo Bluetooth 3.0, tutto sommato una dotazione abbastanza standard per questa tipologia di prodotto. EPC-1015PEM è realizzato con il design denominato da ASUS Seashell. Piuttosto sottile, il netbook ha una tastiera elementi isolate e un touchpad di dimensioni piuttosto generose che supporta le gesture multitouch. Gran parte delle superfici di questo EPC sono realizzate con una finitura opaca, scelta che rende il prodotto pressoché immune dalle ditate. Il display ha una diagonale di 10,1 pollici con risoluzione di 1024x600 pixel e, un po' in contrattendenza rispetto ad altri prodotti, non è di tipo glare, facendo quindi la gioia di chi proprio non sopporta i fastidiosi riflessi di quella tipologia di pannello. Nella parte superiore della cornice è integrata anche una webcam da 0,3 megapixel, dotata di un otturatore per coprire meccanicamente l'obiettivo. Il sistema operativo preinstallato da ASUS è Microsoft Windows 7 Start Edition, mentre per un accesso instant-on è disponibile l'ormai nota soluzione ASUS Express Gate. Molto interessante è anche il risultato del test di autonomia condotto con la nostra ormai consueta modalità di navigazione continuativa utilizzando la connessione Wi-Fi. EPC-1015PM ha fatto registrare oltre otto ore di funzionamento in interrotto con livello di luminosità impostato al terzo step disponibile. Il prezzo di listino di questo prodotto è pari a 329 euro, even inclusa. Per quanto riguarda le prestazioni nel calcolo puro, vi presentiamo questi grafici relative ai test comparativi realizzati alcuni giorni fa. Il divario rispetto alle precedenti CPU Atom single core è davvero evidente.